Ben ritrovati dalla redazione di TVL per questo nostro spazio del mattino con il quale iniziamo la giornata nel segno delle notizie e sfoglieremo insieme i quotidiani usciti questa mattina nelle edicole vi proporremo alcuni estratti di articoli usciti sulle testate online ma tutto questo arricchito dalle notizie, se ce ne saranno naturalmente, di cronaca locale che arrivano dalla nostra redazione tutto questo per iniziare insieme la giornata sul fronte delle notizie di ciò che è accaduto e sta accadendo iniziamo questa mattina sfogliando insieme il Tirreno nella sua edizione di Pistoia Prato Montecatini e vediamo insieme la prima pagina di quest'oggi 25 di novembre tema centrale che viene riportato su tutte quante le testate a livello globale è il significato di questa giornata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e lo si ricorda in taglio alto sul giornale una donna uccisa ogni tre giorni diciamo no insieme è la frase scelta per ricordare questa giornata importante e anche significativa la fotografia scelta delle scarpe rosse rosso è il simbolo della campagna contro la violenza sulle donne nella fotografia non si vede bene ma insomma ci sono su ogni scarpa un foglio con su scritto il nome di una donna uccisa ma ne parleremo più avanti tante le iniziative nel nostro territorio e anche in provincia ne parleremo nel nostro telegiornale di spalla le problematiche legate al maltempo tra Liguria e Piemonte acqua e paura esonda il Po un disperso questa è la situazione riportata dai giornali ma poi faremo un aggiornamento più puntuale grazie alle testate online mentre due sono i temi centrali della cronaca pistoiese in prima pagina la situazione sul fronte delle case in calo i prezzi delle abitazioni il pistoia e il mercato riprende e c'è una mappa delle quotazioni per chi fosse interessato a vendere o a comprare casa mentre la foto che è in prima pagina gravissima donna di 62 anni investita mentre va a buttare i rifiuti e è successo sulla via Bonellina a poca distanza da Pistoia la donna è stata portata in gravi condizioni come detto all'ospedale San Jacopo mentre più in basso la cronaca ci porta in Val di Nievole a Montecatini e Pescia troppo degrado all'ex cartos denuncia e multe alla proprietà mentre su Pescia si parla del futuro della città il vero rilancio grazie al settore della carta c'è stata appunto una iniziativa importante e andiamo subito a vedere solo come titoli come detto perché poi cercheremo di guardare qualche aggiornamento sul fronte con le testate online il Tannaro Straripa incubo alluvione in Piemonte paura per le piene dopo giorni di piogge record il Cunese sott'acqua il Poesonda Torino timori ad alba questo è il quadro delle situazioni con il presidente della regione del Piemonte Chiamparino che ha annunciato così come ha già fatto quello della Liguria di chiedere al governo lo stato di calamità per quanto sta accadendo mentre nella giornata di quest'oggi il presidente del consiglio Matteo Renzi ha annunciato una sua visita in Piemonte sui luoghi colpiti da questa alluvione un'alluvione purtroppo che non è già musì la cronaca anche toscana ci ricorda non è un caso isolato lo ricorda anche il Tirreno che fa anche attraverso una mappa un po' il quadro della situazione nelle zone a rischio 7 milioni di italiani ora serve la prevenzione dal governo c'è un piano di intervento da 75 miliardi in 15 anni galletti le risorse ci sono bisogna imparare a spenderle questo il quadro della situazione dicevamo la giornata contro la violenza sulle donne la strage rosa uccise una donna ogni tre giorni è il titolo qui a pagina 4 del Tirreno si ricordano otto storie eccole qui le foto delle otto donne uccise tra queste una vicenda anche pistoiese quella di Lamia Crichi 28 anni uccisa bruciata vita lo scorso 6 ottobre a San Momè da un uomo che si era invaguito di lei è una delle storie di donne che hanno perso la vita per uomini a causa di uomini violenti oggi giornata di riflessione di confronto come detto tante iniziative in programma per riflettere su questo tema di drammatica attualità tema del quale a volte non c'è neanche la reale percezione e in questo senso i numeri ci sono di aiuto perché rendono in maniera molto chiara quant'è l'importanza e la la forza di questo fenomeno sulla nostra collettività una ricerca di Eures il 71,9% dei delitti è in famiglia e intanto scoppia la polemica su di un video della RAI ma questo è un'altra faccenda negli ultimi dieci anni i femminicidi in Italia sono stati 1740 il 71,9% in famiglia 846 di loro all'interno di una coppia 224 per mano di una ex ma il femminicidio è la punta di un iceberg di un fenomeno si legge nell'articolo firmato da Fiammetta Cuppellaro ben più radicato che solo i numeri ne descrivono l'entità secondo l'Istat 3 milioni e 466 mila donne in Italia hanno subito stalking da parte di qualcuno nell'arco della propria vita si tratta del 16,1% della totale della popolazione femminile tra i 16 ed i 70 anni l'età più complicata è quella tra 24 e 34 di queste 2 milioni e 151 mila sono state perseguitate da ex partner e questa si tratterebbe soltanto della punta dell'iceberg perché i numeri e sempre dicono come in poche arrivano a denunciare atti di questo genere il 40% non mette a rischio la situazione che sta vivendo ed intanto su questo fronte per quanto riguarda dalle iniziative che sono prese la conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera allo stanziamento di 31 milioni di euro 12 milioni e 145 mila saranno investiti nei centri antiviolenza e case rifugio già esistenti quasi 6 milioni serviranno per aprirne di nuovi mentre 13 milioni sono quelli stanziati per la realizzazione delle 4 linee di azione previste dal piano straordinario contro la violenza sessuale naturalmente queste sono iniziative che possono essere prese a livello istituzionale naturalmente molto passa dalla educazione delle persone cominciandosi da bambini per far capire quanto debba esserci reciprocamente in una coppia o comunque tra uomini e donne un reciproco rapporto di rispetto che poi sta alla base anche dei rapporti umani andiamo avanti si parla di economia la manovra arriva alla camera eccolo qui ok entro il 4 di dicembre le novità uscite nella commissione bilancio aumenta il congedo per i papà lotteria degli scontrini più chance con un banco con i banco ma ridotta anche la cisa sulla birra anche se in maniera estremamente esigua si pensa in questo caso a rimettere mano alla manovra al senato mentre sempre sul fronte delle iniziative delle vertenze delle iniziative del governo contratto statali all'ultimo miglio si tratta di un aumento di 85 euro la riforma Madia si ai 5 decreti anche quello che riguarda la dirigenza le altre riguardano i servizi pubblici locali le autorizzazioni e le camere di commercio e la ricerca qui una foto della ministra Madia si torna a parlare di emergenza meningite sul caso del bambino di Colle Salvetti la madre denuncia per quel medico era solo un'influenza il dramma Colle Salvetti mio figlio ad un passo della morte il racconto della mamma è stato salvato a Cisanello ma prima è successo di tutto questo il suo sfogo il tirreno riporta anche la posizione del medico non c'erano però i sintomi di meningismo della meningite il piccolo ricordo 8 anni è stato portato al Meyer tra le notizie positive di questo periodo restando in qualche modo il tema collegati all'economia in questo periodo un po' i vari quotidiani ricordano riportano storie che ci vengono dai vari angoli del paese di iniziative positive o quantomeno che si distinguono per voglia di fare e di realizzare qualcosa di nuovo nonostante la difficile fase che sta vivendo il nostro paese una notizia interessante ci arriva dalla provincia di Empoli dove un ex regbista di 35 anni si reinventa contadino e fonda un'azienda bio ho zucchine così buone che si spalmano sul viso è la frase virgolettata è anche un po' che può far spuntare sul volto un sorriso di questo imprenditore le sue creme fatte con ortaggi invenduti gli sono valse infatti un premio di Coldiretti quindi un applauso sicuramente all'inventivo e alla capacità di questo imprenditore toscano andiamo a vedere invece sulla nazione quali sono i temi riportati in prima pagina naturalmente in taglio alto ci sono i temi a livello più locale pistoli e violenza sugli anziani raffica di condanne ma lo vedremo più avanti mentre la notizia che riguarda sempre la manovra economica e interessa più direttamente il tessuto produttivo pistolese in primo luogo quello legato al verde al settore del vivaismo bene saltano gli incentivi per il verde dei privati uno schiaffo ai vivaisti è il titolo in prima pagina su questa vicenda anche se si ipotizza che anche in questo caso come detto prima per la birra possa esserci una revisione al senato ma per il momento il provvedimento ha ricevuto una bocciatura statali l'abbiamo detto prima previsti aumenti per lì statali di 85 euro aumento elettorale invece è il titolo commento della nazione il governo propone 85 euro in più obiettivo chiudere prima del referendum via libera alla riforma media incarichi a tempo per i dirigenti pubblici sempre se per quanto riguarda i temi legati alla politica la notizia ha fatto un po' il giro del mondo è la presa di posizione dell'economist il giornale economico inglese che sottolinea a gamba tesa sottolinea la nazione sul referendum meglio il no è il commento mentre per quanto riguarda la politica europea si riporta in prima pagina la decisione di Schulz di lasciare il Parlamento europeo e tornare in Germania sarà l'anti Merkel la storia riportata in prima pagina la foto è abbastanza surreale ma sicuramente in qualche modo fotografa il carattere della persona ritratta si chiama Hermes Maiolica definito un cyber falsario che è stato sentito il nome è presumibilmente falso ma naturalmente ma perché è stato sentito perché a proposito di politica c'è la notizia del falso profilo internet twitter di una presunto sostenitore 5 stelle contro il governo che poi si è rivalato essere la moglie di Brunetta ed è stato sentito proprio per capire quanto oggi le bufale notizie inventate le cose sentire dire che filtrano sulla rete diventano notizie reali prendono reale consistenza per l'opinione pubblica senza essere verificate e diciamo come esperto in materia di bufale famose è stato sentito questo internauta lo vedremo tra poco leggiamo un pezzettino dell'intervista che gli ha riservato la nazione ed a proposito appunto dicevamo di questo episodio altro che cyber guerra grillina a proposito della moglie di Brunetta i tweet sono della moglie di Brunetta Titti Giovannoni confessa ci sono io dietro l'account che attaccava Renzi è dunque una svolta in questa vicenda a proposito appunto dell'uso di internet per riportare notizie vere o prosunte tali sentiamo cosa ha dichiarato alla giornalista questo questo personaggio dicevamo Hermes Maiolica 33 anni re delle bufale del web così è stato definito ci cascano tutti pure i 5 stelle ha detto i milioni hanno creduto che Eco votasse sì ma era già morto il riferimento a questa fotografia dove si ritrae un uomo che assomiglia allo scrittore scomparso con una maglietta su cui è scritto basta un sì il riferimento è al referendum una frase lui aveva detto avrebbe stato attribuito alla frase chi voterà no è un imbecille milioni di visualizzazioni di insulti ma lo scrittore era già scomparso e diciamo sì rispetto a a questi a questi episodi gli viene chiesto così la notizia fasulla viene percepita come vera la bufala agisce sul pregiudizio spiega delle paranoie e su quello a cui la gente vuole credere c'è qualcuno dello spettacolo un politico che sta antipatico basta creare una finta notizia magari verosimile che sui social viene condivisa e questo purtroppo è quello che accade e da operatori dell'informazione l'invito è sempre a verificare su più fonti cercando in primis quelle più autorevoli la veridicità delle notizie soprattutto quelle che passano sui social network che vengono retweetate o vengono condivise sempre verificare prima di leggere soprattutto andando oltre i titoli che vengono strombazzati e poi magari il contenuto dell'articolo è leggermente diverso questo vale anche per noi giornalisti la categoria anche altre volte è capita in varie volte è stata vittima anch'essa di tranelli che arrivano dal web un aggiornamento sull'agguato al medico modenese agguato con l'acido c'è una nuova pista eccolo qui il titolo si scava negli affetti del medico Modena perquisita la sua casa l'uomo vedo ha una relazione l'inchiesta dunque sta continuando ricordiamo questo medico era stato aggredito vicino casa con dell'acido era stato colpito è stato costretto al ricovero in ospedale con lui c'era il figlio che è rimasto anche lui diciamo così toccato dall'acido fortunatamente in maniera molto molto più lieve andiamo dunque a vedere la cronaca locale cominciamo con il tirreno poi passiamo alla nazione con la cronaca con l'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio travolta una donna di 62 anni mentre attraversa la strada abita a pochi passi dal luogo dello scontro secondo alcuni testimoni voleva gettare la spazzatura ricoverata nella notte in terapia intensiva questa la situazione una donna di 62 anni è stata colpita da una vettura l'autista la donna alla guida della macchina si è fermata sotto shock subito dopo il fatto una situazione che è apparsa ai soccorritori ci racconta l'articolo firmato da Fabio Calamati apparsa immediatamente difficile e grave dopo i primi le prime operazioni dei medici la donna è stata portata al saiacopo e poi ricoverata in terapia intensiva ma oggi è il giorno dell'Arsencraft la fiera delle arti e dei mestieri promossa da CNA confartigianato con il contributo del comune la provincia la camera di commercio la fondazione caribit alla cattedrale dell'ex breda eccolo qui tre giorni all'insegna dello stile del vivere apri battenti l'Arsencraft domani in tavola rotonda su Pistoia Capitale come leva di sviluppo per il tessuto artigianale e dunque al via questa manifestazione tra gli eventi invece che ci saranno prossimamente domenica al dopolavoro ferroviere a Pistoia balli poesie e cucina la città festeggia la comunità romena festeggiamento un po' in anticipo rispetto alla data da calendario che è il primo gennaio in occasione della festa nazionale della Romania la comunità comunque romena domenica si ritroverà per un momento insieme di festa nel ricordo dei valori della propria identità nazionale per una componente importante per quanto riguarda il tessuto cittadino di Pistoia e non solo si parlava di case lo si riportava nella prima pagina quindi torna a muoversi il mercato della casa così titola il tirreno domanda in crescita i prezzi per ora non smettono di scendere in centro storico e via Lealua le quotazioni più alte si fa un pochino in un quadro della situazione dunque sembra sbloccarsi il mercato della casa secondo i dati i prezzi medi di vendita a Pistoia è di 1900 euro al metro quadrato con un calo dell'1,7 in ottobre rispetto a gennaio questo prezzo pone la provincia di Pistoia al primo posto in Toscana per la convenienza mentre le case più care sono a Pistoia in media a 3100 euro al metro quadrato giusto per fare un paragone ricorda il tirreno nelle province più vicine a Prato un'abitazione costa in media 2300 euro al metro contro i 1900 di Pistoia a Firenze 3700 a Lucca 2200 e rotte mediamente le famiglie hanno a disposizione un budget di 184 mila euro per l'acquisto e così il tirreno poi fa un quadro zona per zona dei vari costi delle abitazioni e dunque vediamo se il mercato della casa fermo per diversi anni si sta sbloccando staremo a vedere due incontri contro la violenza sulle donne ne abbiamo visto come tema nazionale giornata dedicata alla biblioteca San Giorgio tra le altre cose incontro con avvocate una storica dell'arte ed un magistrato occasione di confronto e riflessione su questo delicato ed importantissimo tema a Montecatini si torna a parlare della situazione della Cartos ex Cartos un collaborodo denuncia penale e multe alla proprietà la polizia municipale ha richiesto anche un'ordinanza che obbliga la proprietà a chiudere gli accessi all'edificio infatti questo è uno dei problemi che viene lamentato in primo luogo dal residente della zona cioè il fatto che alcune persone entrano all'interno del fabbricato oggi dismesso ed in abbandono creando situazioni percepite come di poca sicurezza di possibile dove possono essere realizzati dei reati e di qui ecco le iniziative prese con l'ordinanza della municipale che impone alla proprietà di sigillare sostanzialmente il grande edificio davvero imponente per le sue dimensioni a proposito di Montecatini di polizia municipale approfittiamo dell'occasione per salutarla il comandante Michela Puchini lascia dopo 8 anni Montecatini ha vinto un concorso a Marzala dunque dopo 8 anni alla guida della municipale di Montecatini andrà via a lei i migliori auguri di buon proseguimento di lavoro nella sua nuova destinazione per il momento il comando della municipale è affidato al suo vice Andrea Ghilardi nel prossimo anno andrà in pensione nel 2017 quindi il prossimo anno ci sarà un nuovo concorso per conoscere chi sarà il nuovo comandante della municipale ne abbiamo parlato nello sport a Montecatini a proposito di Val di Nievole ci sono i ciclisti del team Astana che scelgono Montecatini la forte squadra Kazaka ospite per 4 giorni dalla Tecroci di Marta per il tradizionale premio ritiro ufficiale in vista della nuova eccolo qui scusate della nuova stagione agonistica si parlava di rilancio della Val di Nievole di Pesce rilanciamo Pesce attraverso la sua carta il museo della fondazione Collodi e l'associazione Terra Viva chiedono che la città faccia dell'industria cartaria il suo brand inseriamolo nel piano della cultura è la richiesta andiamo a vedere velocemente perché il tempo è come sempre tiranno la nazione condanna per le violenze sugli anziani caso di Narnali tre anni alla principale imputata patteggiamenti e rinvio a giudizio la fotografia invece è un reportage della visita dei coronisti della nazione all'interno della Itachi alta velocità è il titolo mentre come detto vivai saltano gli sgravi per i giardini privati vendamento bocciato dalla camera aziende ancora una volta penalizzate ecco qui il titolo scelto dalla nazione per fare una valutazione della situazione e andiamo proprio a vedere i commenti su questa su questa notizia verde privato saltano gli incentivi doccia fredda per tutto il vivaismo la commissione bilancio della camera ha bocciato l'emendamento dunque fumata nera e lo ricorda david costa gli incentivi per il verde privato sfumano una grande opportunità per tutto il settore del vivaismo il no all'emendamento alla legge di stabilità nel 2016 è arrivato ieri pomeriggio nel corso della commissione bilancio della camera dei deputati la defiscalizzazione delle aree verdi private prevedeva di estendere le detrazioni dell'imposta all'ordine del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie anche alle sistemazioni del verde privato perché questa bocciatura c'è un'ipotesi secondo alcune indiscrezioni la ragioneria avrebbe contestato in particolare l'esigua copertura per l'anno 2017 in sostanza non ci sono soldi e quindi non si può procedere con questa misura adesso il confronto si sposta al Senato dove chi difende gli interessi dei rivaisti di lutta Italia è pronto a dare battaglia per cercare di portare a casa un risultato che potrebbe dare un enorme sospiro di sollievo al comparto e speriamo che il sospiro in questo periodo di scarsa aria ci sia anche perché insomma un importante esponente del governo erano venuti anche a Pistoia annunciando come prossimo questo aiuto e non c'è al momento non c'è stato speriamo che al Senato speriamo per gli operatori naturalmente che ci sia un cambiamento di rotta un passo indietro ne abbiamo parlato nel nostro DG di ieri tre comuni insieme per pesare di più sono quelli di Montale all'Ana e Montemullo una azione congiunta anche attenzione al rischio idraulico e risorse del territorio ma in primo luogo gli obiettivi di questo accordo sono la mobilità la sosta del turismo ne abbiamo parlato nel nostro TG di ieri sera potrete rivedere il servizio anche in notizie in corso che vi proporremo nel corso di questa nostra mattina si parla del raddoppio della ferrovia Firenze Lucca dopo le polemiche sulla questione raddoppio sopraelevata a Montecatini bene parla Lucca il sindaco Tambellini raddoppio Lucca preme per i tempi Tambellini teme la linea sopraelevata le preoccupazioni dobbiamo fare in modo che l'iter non si fermi sostanzialmente dal fronte lucchese ciò che sta succedendo in provincia di Pistoria a Montecatini il dibattito sul passaggio erraso sopraelevata secondo l'amministrazione lucchese rischia di far allungare ulteriormente i tempi per la realizzazione dell'opera in direzione della città di Lucca e staremo a vedere insomma se questo si realizzerà naturalmente per i lucchesi l'augurio e che poi i tempi vengano rispettati non solo per loro ma insomma per tutti quanti gli utenti della linea ferroviaria ne abbiamo parlato l'altro giorno nel nostro telegiornale c'è stata un'interessante iniziativa dedicata alla cucina e agli studenti all'istituto alberghiero si chiama The Wellness Culinary Cup una gara tra studenti di scuole alberghiere di varie zone d'Italia quattro in questa prima edizione che si dovono sfidare a preparare piatti tra virgolette dietetici la vittoria a Bologna appara l'assessore De Paola una manifestazione in crescita con questa notizia dedicata ai giovani andiamo velocemente a vedere le testate online che cosa ci dicono e dunque il Martempo in primo piano su gran parte delle testate del paese e vediamo il Corriere della Sera che dice maltempo al nord continua a piovere i fiumi fanno paura danni e allerta nelle regioni colpite dal maltempo Piemonte e Liguria un uomo di 69 anni inghiottito dalla nuova raggine nel torinese questo è il quadro della situazione il stesso tema naturalmente riportato su Repubblica dove c'è una strada un disperso in Valla Chisoni Torino chiusi i ponti sulla Dora e le chiatte sul Po lo vediamo qui in una fotografia si vanno a sbattere vanno a sbattere contro i muri di protezione dei fiumi all'interno di Torino naturalmente uno dei temi importanti di questa giornata è quello della violenza sulle donne 599 vittime in 4 anni chi sono e c'è il racconto con i nomi di queste storie e via via gli altri temi anche la Repubblica ci diamo soltanto questi due perché questa mattina i minuti stanno correndo velocissimamente dall'inizio dell'anno 116 vittime ricorda il Tirreno mentre scusate la Repubblica mentre Repubblica ci porta in Francia su ciò che è successo un episodio drammatico in una casa per riposo di religiosi dove un uomo ha fatto irruzione è stata uccisa una custodia una seconda persona è rimasta ferita i religiosi tutti anziani sono stati liberati 59 persone un gesto criminale l'assaltatore è in fuga ha un fucile ed un coltello al momento secondo gli inquirenti transalpini si tratta di un atto di criminalità ma tutte quante le piste sono aperte con questo è tutto per questo nostro spazio del mattino sul fronte della cronaca dalla redazione del TG60 non ci sono aggiornamenti quindi una mattina che procede tranquillamente e se ci saranno naturalmente notizie ve le daremo vi ricordo potete trovare notizie anche sulle nostre pagine facebook sul nostro profilo twitter dove in tempo reale trovate gli aggiornamenti su ciò che sta accadendo se avete fretta se volete un po' aspettare la prossima spuntamento con l'informazione è alle 14.20 con una nuova edizione del TG60 grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie